L'esperienza con Riccocomi dura e la collaborazione dura tanto tempo. Riteniamo che una testimonianza di Riccocomi, la vicinanza con i ragazzi, il suo libro, l'occasione di leggere, intanto leggere e poi leggere qualcosa di molto utile, molto impattante, sia qualcosa di estremamente positivo. Ecco, Enrico è un benefattore nei confronti soprattutto delle nostre giovanissime generazioni. Il fatto di donare questo libro a tutte le scuole di Arezzo e provincia con l'aiuto di Estra, è importantissimo, è un ulteriore passo verso una collaborazione e dei risultati ancora più soddisfacenti. Un libro di chi ha vissuto un'esperienza terribile che ora la racconta, la racconta ad altri ragazzi che rischiano di caderci. Sì, ahimè ho avuto questo trascorso per diversi anni, le droghe mi hanno risucchiato proprio tutto. Da un bravissimo ragazzo di un paese di provincia, perché io sfido chiunque che mi conosceva a quei tempi, quando avevo 12 anni, 13 anni, era molto più facile che diventavo un seminarista piuttosto che un tossico, perché ero proprio educato, di brava famiglia. Poi tutto un tratto, in un solo pomeriggio, anzi se dobbiamo dirla tutta, nell'arco di 10 minuti, dall'essere così contrario alle droghe ho deciso di provarle. Da lì la vita è andata completamente a rotoli, è stato un continuo peggioramento. Io ho convinto che potevo gestire tutto e invece mi era già sfuggito di mano tutto da un pezzo, fino a ritrovarmi a 21 anni, che soltanto in tre giorni ho avuto due coma, e il secondo coma sono stato proprio abbandonato in un bosco da quelli che io chiamavo mici. Mi hanno rubato due dosi e sono nati via, hanno pensato alle due dosi, non alla mia vita. Quella cosa lì mi ha scosso dentro, mi ha fatto vibrare l'anima, mi ha fatto capire che avevo sbagliato tutto. Da lì il forte desiderio e la volontà di smettere. Non è stata facile, ho impiegato anni, è stata dura, e poi alla fine, alla fine anche tante infortune, la famiglia, i figli. Adesso saranno 25 anni che non bevo neanche un goccio di alcol, non fumo sigarette, e quindi ho proprio girato pagina a 360 gradi. Sicuramente il mondo giovanile merita attenzione, perché è un mondo che ultimamente in questo tipo di società ha sempre meno voce, e quindi è necessario farlo parlare, è necessario farlo diventare protagonista, ma è necessario anche dare degli strumenti, perché il mondo giovanile può essere un mondo fragile. E quindi è opportuno che, come in questo caso, si danno degli strumenti di discernimento e noi questo vogliamo aiutare a fare.